In questo numero del Salus Tg, oltre i 600 neolaureati e laureandi in medicina protestano davanti a Montecitorio, pronti a partire perché senza futuro. Da sabato, cure rimborsate nei paesi dell'Unione Europea. A Tirana non ci sarà una torvergata di Serie B, è da fermarlo il rettore della seconda università capitolina. Ci sono facsimili di biglietti aerei per la Germania, l'Inghilterra o la Francia, nei camici bianchi degli oltre i 600 neolaureati e laureandi in medicina che hanno manifestato davanti a Montecitorio, a Roma, per chiedere il diritto al futuro professionale in Italia, oggi negato a un futuro medico su tre, per la mancanza di posti nelle scuole di specializzazione. I manifestanti propongono alle istituzioni anche possibili soluzioni. Oggi in Italia, così come stanno le cose, spiegano Carlo Ninivaggi e Andrea Milzi del Comitato Pro Concorso Nazionale, non c'è futuro. A partire dal 2016 ci saranno 8-9 mila neolaureati a fronte di soli 3.500 e 4.000 contratti di formazione specialistica e circa 800 accessi alle scuole di formazione in medicina generale. Da sabato ogni cittadino europeo potrà curarsi anche in un altro Stato membro dell'UE, ottenendo il rimborso della prestazione. Gli italiani avranno una straordinaria opportunità per migliorare il proprio diritto alla salute. È questa l'Europa che vogliamo. Ad affermarlo è Pierpaolo Vargiù, presidente della Commissione Affari Sociali, in una nota. I medici, aggiunge, devono dimostrare di essere pronti anche sul fronte delle ricette mediche europee. Mentre i giovani aspiranti medici stanno sfruttando gli ultimi giorni per prepararsi ai test d'ingresso, il rettore dell'Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli, sta studiando, insieme ai vertici dell'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio, nuove regole per l'Ateneo Albanese di Tirana, che coinvolgeranno studenti e docenti, perché a Tirana non voglia una tor vergata di serie B, né scorciatoie per aspiranti camici bianchi. Ecco perché stiamo stilando un nuovo protocollo di intesa. Cattolica Nostra Signora